Oh, bella a tutti i ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay. Oggi mi sono svegliato apposta per voi per continuare a... Buonasera Olivier, il signor della Serra è tornato. Il signor della Serra tornerà molto tardi. Ah, bene. Penso che salirò a salutare Elisa allora. Non ci pensare nemmeno. La signorina è ad una sua re esclusiva in suo onore. A palazzo. Una festa? Non mi ha invitato. Nemmeno i cavalli. Di certo l'invito sarà andato perso. Entrerò lo stesso. Ah, ma quanto tardi? Forse tra un'ora o tra tre. Forse non tornerà. Non mi impiccio delle faccende dei miei padroni. Aspetterò qui allora. Quindi come stavo dicendo, siamo qui per continuare a Sassi's Creed di Unity. Elisa non ama i balli dell'alta società. Tornerà presto. Il trattato sulla luce di Cartesio. Non sono mai riuscito a finirlo. Posso farla passare sotto la porta. La vedrà appena ritornerà. Le memorie del signor d'Artagnan. Il preferito di Elisa. La sana e salva. Solo un po' in ritardo. E ora a palazzo. Non potrei entrare nelle fogne vestito così. Figurarsi a un ballo. E direi cosa accettarè. Qui, qui, amico. Lascia che ci pensi io. Oh, grazie, ragazzo. Non sta molto bene. I am sexy in a noit. Maximilien Robespierre, d'assù. Arnaud. Il cavaliere di Telemma. L'invito, per favore. A proposito, ce l'avevo proprio qui, ma nel tragetto... Niente invito, niente ingresso. Uscita dalla fila. Il prossimo. Charles, Gabriel, Siver, due a sette. Il prossimo. Ci sono tutti. Vero. Due a sette. Il prossimo. Il signor crepion l'ha tenuto! Facciamoci un salto giusto per lui! Mettiamo ancora questa ascia dietro? Per chi è questa festa poi? Chi serve? Servirà solo a dare lustro alla signorina della sera! E' già l'ora del cambio! Adelaide, torna subito alla festa! Torre ci siamo! Oh, lassù! Termo! Giù di lì! Mi farai entrare se scendo! Cosa? Certo che no! Beh, dato che per te è lo stesso! Allora resterò quassù! Ci vedremo dopo in giardino un senso! Certo! Ci sono tutti stasera! Non ricordo l'ultima volta che ci siamo trovati tutti insieme! Deve essere stato per quell'affare con... Preferirei che non ne parlassimo più! Signora! Mi concedete questo ballo, bel giovane? Grazie! Un'altra volta! Salve! Salve! Ma non c'è più se... Allora! Sì... 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 ...teneremo a segretare? Cosa di smettaccio? Ai Isaac! Non mi lasciate pregare da quel tipo! Vado a passare il più sexy della festa Va pazza per gli inseguimenti Hai causato parecchio fermento, direi Che devo dire? Eri un cattivo esempio? No, eri tu il peggiore Indossi uno degli abiti di papà E tu indossi un abito? Non cominciare, mi sento una mummia rinchiusa qui dentro Deve essere un'occasione speciale allora No per niente, a dire il vero è tutto così pomposo e mondano Una noia Vedi, quando non mi inviti alle tue feste finisce sempre male Ho provato, ma papà mi voleva Davvero? Vira là, aprite Vai, li distraggo io Cosa? Mi stai cacciando? E' complicato Ti spiego dopo, ma ora fuori dalla finestra Oh no, 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 non andrà a finire come quella volta al meleto Non fare il bambino Sono sicura che non c'è nessun cane da guardare stavolta Va Oh cielo Ma non è la stanza del biliardo Vero? Ti seguiamo l'intruso, signorina della terra No, no, non credo più Un pulgo può essere Traia sarà la finestra Ma no Che sorreco lì Non c'è nessuno Ma che diavolo Ehi C'è qualcuno lì? Sei come i criminali Uguale O Anche Ehi Chi ? Si Ehi Chi diavolo dovrebbe venire qui? Scommetto che uno di questi nobili mi vomiterà sulle scarpe. Aspetta un attimo. 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 Vorrei un attimo. Sì. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Signore. Signor della Serra. Signor della Serra. Signor della Serra. Siver, vieni via. Guardie! Aiuto! Criminale! Oh, mia merda. Signor della serra è. Dio nio. Ha ucciso il signor della Serra. Ecco Marty! Grazie a tutti.